Musica Buongiorno e benvenuti a Galeno News, la nuova rubrica quotidiana di RaiSport, rubrica dedicata alla salute e alla medicina. Tanti medici si alterneranno accanto a me per parlare di prevenzione, di terapie riabilitative e naturalmente anche di necessari stili di vita. Daremo voce anche al mondo della ricerca, oggi qui accanto a me seduto il professor Sandro Rossetti, primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Camillo di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi. Oggi un argomento interessante, un argomento particolare, un argomento di cui si sta parlando tantissimo negli ultimi anni, è PRP, una semplice sigla, e dei famosi fattori di crescita. Di che cosa si tratta professore? Diciamo che l'unica grande novità degli ultimi anni nel mondo della medicina e più in generale anche dell'ortopedia. Noi stiamo utilizzando molto questi fattori di crescita che non sono altro che un estratto delle piastrine del nostro sangue. Il procedimento è molto semplice, è sufficiente prelevare 10 cc di sangue, affidarli al nostro trasfusionista o ematologo con cui collaboriamo e grazie a un processo di centrifugazione avremo una concentrazione delle piastrine che vengono separate dagli altri componenti del sangue, dai globuli rossi e dai globuli bianchi. Quindi una macchina che centrifuga e separa il plasma. Una macchina che centrifuga e separa il plasma dalle piastrine, dagli globuli bianchi e dai globuli rossi. Dopodiché? Tutto questo ci comporta una concentrazione di piastrine che noi andiamo ad utilizzare nelle varie patologie ortopediche. Ecco, qui veniamo al secondo passo. Quali sono i campi di applicazione? Perché mi rivolgo a lei per questo tipo di trattamento? Perché noi ortopedici siamo quelli a cui si riferisce sia il paziente giovane, sia quello meno giovane, sia lo sportivo, sia l'impiegato. Nel senso che oggi sappiamo tutti che si fa molto più sport di vent'anni fa. Oggi tutti noi ci sentiamo atleti, anche alla mia età, diciamo che anche il cinquantenne o il sessantenne è uno sportivo attivo e come tale va incontro a tutta una serie di patologie che possono interessare i tendini, possono interessare i muscoli, possono interessare le ossa e possono interessare la cartilagine. In tutte queste patologie, il PRP o il gel piastrinico o i fattori di crescita, chiamiamoli come vogliamo, hanno un effetto terapeutico e positivo. Molto importante anche come cura, come trattamento per l'artrosi. Per l'artrosi sembra essere veramente una panacea, ma non vorrei essere frainteso. Dare forze speranze. Non curiamo l'artrosi. Noi riusciamo a trattare col PRP il dolore da artrosi. Cioè noi non riusciamo a ricostruire una cartilagine efficiente, perché nel momento in cui la cartilagine noi l'abbiamo consumata non ce la ridà più nessuno una cartilagine valida. Se non in alcuni casi, ma poi entriamo nel mondo della traumatologia, ne possiamo parlare magari dopo, però diciamo che l'artrosi è un processo che porta all'usura della cartilagine delle nostre articolazioni. Quello che il PRP ci permette di ottenere è di rimuovere la sintomatologia dolorosa, o almeno ridurla in modo significativo. Prima notizia di oggi, la sopravvivenza aumenta del 5% quando la chemioterapia dopo l'intervento chirurgico è somministrata ogni due settimane rispetto allo schema standard a intervalli di 21 giorni. Diminuisce anche il rischio di tossicità. Seconda notizia invece, nel nostro paese l'84% degli uomini colpiti da melanoma, un tumore della pelle particolarmente aggressivo, guarisce. Nelle donne invece, purtroppo, l'incremento è solamente del 6%. Fondamentale il controllo dei nei, attenzione però ai tatuaggi perché possono nascondere la loro evoluzione. L'ultima notizia invece riguarda la dieta mediterranea, il tumore della prostata si alimenta a tavola. Una dieta ricca di grassi saturi, fritti e carne rossa aumenta la possibilità di sviluppare il cancro. Per giocare d'anticipo si devono privilegiare, come tutti sappiamo, ortaggi gialli e verdi, olio di oliva e frutta. Così facendo si può allontanare il rischio di contrarre il tumore che, comunque sia, nell'ultimo decennio ha visto ridurre la mortalità del 10%. Professore, ha sentito le nostre news? La dieta mediterranea è una dieta ricca, insomma. La dieta ricca di... Di carboidrati, di frutta, di vertura, di ortaggi, insomma, comunque... È sicuramente la migliore e questo non è una novità. Sicuramente le carni rosse, sicuramente i fritti, sicuramente questo tipo di alimenti. Non credo che danneggiino solo la prostata, ma credo che danneggiino anche l'apparato gastrointestinale, per cui favoriscano anche altri tipi di tumori. Certo. Per cui, affidiamoci alla dieta mediterranea che è sempre stata la migliore. Che è quella che va sempre bene, insomma. Torniamo a noi, torniamo al PRP e ai fattori di crescita. Eravamo rimasti all'artrosi, come giustamente lei diceva, naturalmente è un'artrosi che è già andata avanti col tempo. E quindi ci ritorniamo... Un'artrosi molto evoluta ha pochi... tra i pochi vantaggi. A quel punto bisogna ricorrere all'ortopedico aggressivo e dobbiamo pensare a un discorso protesico. Certo. Invece, col PRP, riuscendo a colpire preventivamente il processo artrosico, riusciamo a ritardare sicuramente di qualche anno l'impianto protesico. E questo credo che sia l'obiettivo principale che stiamo perseguendo. Nel campo invece della traumatologia, come può essere d'aiuto il PRP e il fattore di crescita? Nel campo della traumatologia tendinea e muscolare, il PRP è sicuramente... Lei cura tanti sportivi, ci può fare un esempio? Beh, adesso, senza fare nomi, diciamo che sicuramente la patologia che ottiene maggiori risultati e più frequente è la epicondilite, la malattia cosiddetta del tennista, la malattia del gomito, l'infiammazione... Il classico gomito del tennista. Il classico tennis ebol, che è una patologia dolorosissima, che non riguarda solo i tennisti, ma riguarda anche l'impiegato di banca che decide la domenica di vitturare la stanza del proprio figlio, la sera c'ha le epicondilite. Se la porta dietro per mesi, ma veramente mesi, ed è un dolore che condiziona, perché hai la difficoltà di stringere la mano, di stringere una bottiglia, di stringere un bicchiere, per cui avere la possibilità di ricorrere al PRP invece di ricorrere al cortisone, che è sempre e comunque un farmaco e come tale provoca anche dei danni collaterali, io credo che sia una soluzione estremamente interessante. Non solo l'epicondilite, ma una tendinite del tendine rotuleo, cioè parliamo del ginocchio, una tendinite dell'achilleo, cioè parliamo del calcagno, oppure tutte le fibromiositi, le infiammazioni muscolari, gli strappi muscolari che guariscono in tempi estremamente più brevi, cioè tutte le patologie dove c'è un processo flogistico e doloroso si avvalgono del PRP. Ecco, abbiamo parlato di tempistica brevemente, quanto deve durare il trattamento? Logicamente è soggettivo in base alla tecnologia? Allora, ognuno di noi ha una propria esperienza personale. Devo dire che io con la mia equipe, parlo dell'equipe del San Camillo, ci siamo fatti un'esperienza tutta nostra, sono quattro anni che lavoriamo con i nostri trasfusionisti, quest'anno abbiamo fatto circa 400 casi di patologie trattate con questo tipo di trattamento e abbiamo un nostro protocollo che porta a un'infiltrazione a settimana nelle patologie tendine e muscolari e un'infiltrazione ogni 15 giorni nelle patologie artrosiche. si fa un ciclo di, in genere, tre infiltrazioni, ma poi è l'ortopedico che si valuta a seconda della situazione il proprio paziente, se c'è una risposta migliorativa si prosegue anche alla quarta infiltrazione, se alla seconda non si ottiene risultati è inutile andare avanti perché... Brevemente, controindicazioni? Non ne abbiamo, salvo patologie del sangue, cioè nel senso, se un paziente ha una patologia in attimo, una carenza di piastrine, un'alterazione del suo corredo ematologico, quello ce lo dice l'ematologo. Allora, quella è la controindicazione, è l'unica. Grazie professore, rimanga con noi perché adesso abbiamo un importante collegamento. Eccoci di nuovamente in studio, in collegamento dall'ospedale Fatebene Fratelli di Benevento, Raffaele Pilla. Buongiorno Raffaele. Buongiorno, buongiorno. Allora, farmacista di formazione, ricercatore invece, diciamo così, per vocazione e per fortuna nostra, hai lavorato in diversi posti, tra cui la facoltà di medicina della University of South Florida di Tampa. Dunque, Raffaele, su che cosa esattamente avete lavorato e parlaci di questa dieta chetogenica, in che cosa consiste esattamente? Certo, il tutto è cominciato da un contratto iniziale con la Marina Militaria Americana e con una società nota, molto importante, forse la più importante società di assicurazioni per sub, la Diver Salad Network. Cominciando a lavorare con loro, i problemi più frequenti che si osservavano erano dovuti alla tossicità da ossigeno iperbarico, cioè un eccesso di ossigeno respirato nelle bombole ad alta pressione da parte dei sub li induceva a un'insorgenza di gran male, di convulsioni epilettiche che non erano tuttavia della stessa origine, ma si manifestavano allo stesso modo. È chiaro che avere convulsioni fuori dall'acqua è un conto, avere convulsioni all'interno dell'acqua portava a morte questi sub. Quindi il tutto è nato dal trovare un sistema per poter meglio spiegare questo fenomeno, anche se era stato già elucidato, ma soprattutto per poterlo predire e prevenire, un modo per evitare a questi sub di avere le convulsioni. Sì. E inizialmente abbiamo predetto questo fenomeno valutando con dei sistemi di chirurgia negli animali, abbiamo impiantato dei dispositivi che ci consentivano di misurare in tempo reale l'attività elettrica da parte della zona del cervello Bregma e Lambda, quindi avevamo degli elettodi all'interno del cervello, degli elettodi nel muscolo pericardico per misurare l'elettrocardiogramma e l'elettromiogramma per la respirazione. Abbiamo quindi trovato, abbiamo visto che uno dei fattori per poter predire l'insorgenza delle convulsioni era quello di un'aumentata respirazione, sia da un punto di vista di profondità che da un punto di vista di frequenza di respiro. Comunque non ci bastava, quindi siamo voluti andare a trovare un metodo per evitare che le convulsioni avvenissero e ci siamo basati su un vecchio sistema, dico vecchio perché è data del 1922, quando nell'ospedale John Hopkins di Baltimore iniziavano a trattare i primi bambini epilettici, malati di epilessia refrattaria, cioè resistente ai farmaci classici, con un sistema chiamato dieta chetogenica, cioè una dieta che consente di trattare i pazienti con un massimo di 3% di carboidrati al giorno. Ma poi dal 3% si può salire a seconda del tipo di patologia, ma il più ristretti si è, la maggiore possibilità di successo si ha. Quindi eliminare i classici zuccheri semplici, quindi pasta, pane, riso. Pasta, pane, pizza, sì esatto, ma anche i zuccheri complessi, soprattutto zuccheri complessi, quindi soprattutto se stiamo parlando di dolci, tutto quello che noi troviamo pronto e relativamente... Quindi Raffaele, scusami se ti interrompo, non è una dieta preventiva, ma è una dieta che voi avete adattato a dei bambini già malati. No, 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 allora la dieta è stata adottata dal 1922 all'ospedale John Hopkins di Baltimore, loro sono stati i pionieri. Noi ci siamo avvalsi della letteratura, quindi volevamo cercare di impedire che queste convulsioni ai sub della marina avvenissero, anche se la natura di queste convulsioni non era esattamente la stessa. Quindi non potendo però utilizzare chiaramente delle diete specifiche per i nostri ratti, né dire ai sub della marina militare americana in missione, durante le missioni di attacco di difesa o di salvataggio di un sottomarino, ok signori, da domani siete senza carboidrati, abbiamo sintetizzato un composto che mima una dieta chetogenica, tuttavia senza fare la dieta, e raggiunge gli stessi risultati che si otterrebbero con tre settimane di una dieta in soltanto 30 minuti. Questo nei nostri ratti ha visto aumentare la resistenza nel tempo di latenza contro le convulsioni del 574%, cioè quasi sei volte più a lungo. Raffaele, in questo momento invece su che cosa state lavorando? In questo momento ci siamo, quindi stiamo continuando comunque a lavorare su quell'argomento, ma ci siamo spostati anche su altri effetti benefici della dieta chetogenica, quindi se controllate su PubMed o su Google semplicemente potete vedere che la dieta chetogenica si utilizza per una moltitudine di patologie come terapia metabolica e alternativa, tuttavia ancora non troppo in voga in Italia, ma negli Stati Uniti sicuramente più sentita. Le patologie di cui sto parlando sono molte delle malattie neurodegenerative, quali l'epilessia per l'appunto, abbiamo anche degli ottimi risultati, e dico abbiamo perché degli istituti vicino al mio, o comunque che collaboravano con il mio. Stanno collaborando con voi. Quindi abbiamo giuntati con Alzheimer, con Parkinson, ma anche nel tumore, in molti tumori del sistema nervoso. Speriamo, grazie Raffaele Pilla, grazie, buon lavoro naturalmente. Professore, continuiamo sempre a parlare di dieta qui in ogni campo, la dieta è fondamentale. Ho capito, però a un certo punto, poco fa abbiamo detto che non dobbiamo mangiare carne fritta, adesso non diciamo che non dobbiamo mangiare tutte le farineci, frutta e verdura. C'è rimasta frutta e verdura. Frutta e verdura. Vabbè, comunque. L'importante è che si studia e che si va avanti, le speranze sono infinite. Grazie professor Sandro Rossetti per essere stato con noi, naturalmente Galeno News le lascia aperte le porte, per cui quando vuole tornare a trovarci è il benvenuto, è stato un piacere. Grazie, Galeno News torna come sempre domani puntuale alle ore 9. Arrivederci.